Allora come vi sembra la serata? Vi state divertendo? Fatemi un applauso! Allora, al prossimo sketch, dato che siamo in una scuola di lingue, di solito si studia lo spagnolo, l'inglese e il francese, e in questo sketch vedremo una professoressa di spagnolo un po' particolare, con due alunne decisamente... Non aggiungo altro, sta a voi guardare il prossimo sketch. No, 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 sono rovinata, sono rovinata! Oi Cata, tutto bene? Ma tutto bene di che? Oggi è l'ultima interrogazione di spagnolo e io non so nulla! Immagina io! Comunque mi hanno detto che tanna bene, devi ripetere tutto quello che dice lei, e poi se in caso metti la S finale. Ma sei sicura? Sono sicurissima, ok? Va bene, dai, provamocis! Dammo! Anche voi tutti? Anche voi tutti? Vabbè! Allora, hola estudiantes! Hola, hola! Hola, hola! Hola! Allora, hola es un saludo, come estas? Hola, hola es un saludo, come estas? No, vosotros, come estas? No, vosotros, come estas? Estas, estas! Io non restas, tu restas? Io no, io me ne posso! Ah, ok! Io sono la professora! Io sono la professora! No, io sono la professora! No, io sono la professora! Vosotros, estudiantes, io sono la professora! Vosotros, estudiantes, io sono la professora! E basta! E basta! E sta bien? 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 Los días de la semana! Los días de la semana! Mannaggia! Mannaggia! Allora, lunes! 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 Guarda che lunes! Ammazza quante pienas! C'ha ragiones! E basta! E basta! E sta bien? E sta bien? E sta bien? E sta bien! Martes! Martes! Miercoles! Miercoles! Io proprio sto Miercoles non lo conosco! Tu lo conosci? Aspetta, aspetta, aspetta! Miercoles, Miercoles, Miercoles! Oh, ma non sarà il cugino di Ercoles? C'hai ragione! Mazzà! Silenzio! Silenzio! E sta bien? E sta bien! E sta bien! E sta bien! Ahora repetimos los animales! Ahora repetimos los animales! Rata! Caccheste i sordi? Eh no, aspetti, prof, io sono un po' indietro per pagare la rata! Ma no, rata, rata! La rata! A casa di noi, quante rata c'ha da pagare? E pagane una, no? T'aiuto io! Vabbè, lasciamo perdere! Lasciamo perdere noi sordi! La rata e il ratto il topo! Allora, ora repetimos los alimentos! Ahora repetimos los alimentos! Agua! Agua! Lecce! 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 Allora, so le 9 e 33, è ora che tocca a nascene! Ah, va bene! Silenzio! Silenzio! Ahora la lesione è terminata! Ahora la lesione è terminata! 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 Basta, andate fuori prima che ve bacio! Ce ne devo inmanar? Sì, de corsa! Namos en es! Está bien? Está bien! Está bien! Bravi! Grazie!